proprio qui in questo punto della ferrovia all'altezza di madonna delle piane a chieti cento anni fa si consumò la tragedia il camion sul quale viaggiava la banda di silvi di ritorno da un concerto a civita quana fu travolto da un treno 43 le persone coinvolte tra cui 11 le vittime due illese e le altre ferite e grazie ai sopravvissuti nel tempo si conobbe la dinamica del dramma che oggi unisce due città silvi e chieti con una serie di iniziative il sindaco di silvi andrea scordella in questo periodo cade il centenario noi siamo veramente diciamo fieri di poter rappresentare il ricordo di queste famiglie con una serie di iniziative sul territorio con la deposizione della corona sia sul punto della tragedia qui a chiedi insieme alle istituzioni nella città di chieti e poi successivamente con un concerto della fanfara della polizia di stato proprio il ricordo nel bel vedere di silvi alta veramente un alto momento di sensibilità sul ricordo di queste purtroppo le di queste famiglie che hanno pianto i loro cari allora sì la banda viaggiava in pulman proprio in questo punto un po per la folta vegetazione un po diciamo la distrazione del conducente e ci fu questo evento tragico del treno travolse questo questo pulman noi come amministrazione comunale non potevamo non organizzare un evento del genere qui al patrocinio anche della regione abruzzo e siamo diciamo orgogliosi oggi di ricordare quelle vittime il momento clou della commemorazione di oggi la deposizione della corona di fiori da parte del primo cittadino di silvi e del sindaco di chieti diego ferrara nel punto dove avvenne la tragedia sindaco viene sottolineata nelle cronache la grande solidarietà di chieti nei confronti della città di silvi allora chieti dimostra ulteriormente in questa occasione la sua vocazione a città inclusiva e solidale come d'altronde lo è stata già dalla seconda guerra mondiale in questa occasione sono accanto al mio collega andrea scordella di silvi sono vicino a lui e alla cittadina di silvi non solo istituzionalmente ma anche umanamente alessandro spitilli sono passati cento anni da quel maledetto giorno in cui lei perse chi sì noi in quell'incidente familiari abbiamo perso quattro familiari e oltre ad altri feriti tra l'altro pure mio padre che aveva appena 15 anni ed era su quel su quel maledetto camion suo padre è riuscito a raccontarle qualcosa sì mio padre ci raccontava spesso di questo episodio anzi mio padre a 15 anni ha dovuto sobbarcarsi il peso della famiglia perché il primo genito quindi sette figli sette orfani e quindi cioè insomma la storia è questa grazie a tutti grazie a tutti